novella 36 fiorindo e chiara stella raccontata dalla luisa vedo vaginanni un re li andeva ogni sempre a caccia e una volta e nel girar per la campagna si imbattette con un contadino che dentro a una selva strolagava di notte le stelle dice il re o e che fatevo costi strolago le stelle per farne che vo non potete essere capace dice il contadino per codesto capace i sono e fo la astrologazione per chi ho e la moglie soprapparto e lei ma da parturire un bambino e le stelle prognosticano che lui sarà il re di spagna a un simile discorso il re si disturbò lui gli era appunto il re di spagna in persona e figlioli masti e non aveva per su legittimi eredi stiede zitto tavia e in iscambio gli disse a quel contadino li farò da padrino se voi siete contento alla vostra creatura voi non venerete a pentire o faccia lei se si vuole incomidare venga pure a casa con meco a rispose il contadino ne entrava dunque nella casa del contadino e già la donna aveva parturito un bel mastio sicché li si messano tutti d'attorno per ammannirlo alla cerimonia del comparatico e fatto che gli ebbano ogni cosa come costuma in simili casi il re disse questo figliolo lo voglio io me l'avete a dare perché se lui deve essere re bisogna che sia aducato per quel mestieri e voi altri per questo non potete essere capaci io dei figlioli non no e ti ero questo per mio figliolo legittimo si sa gli uomini tacciano e le donne discorrono di più il contadino gli steva zitto e non opponeva difficoltà ma la sua moglie in scambio si lamentava che le volesse a portare via la creatura a male brighe nata in ogni modo poi dopo un pezzo di ridì anche lei si persuade e il re con quel bambino rifasciato lassata una buona mancia sui genitori se ne andiede assieme al suo servitore che per insinua lì l'aveva accompagno ma quando gli arrivarono in mezzo a un bosco folto a dove c'era il mare vicino disse il re al servitore to piglia questo coltello e ammazzalo con de sto bambino e poi buttalo in mare i t'aspetto all'osteria e intendo che te mi porti il fegato della creatura morta perché i me lo vuoi mangiare il servitore rimanette nel bosco e dopo che il re si fu dilontanato badava a dire fra sé e sé guà che bemodi rubare i bambini degli altri per poi ammazzarli e bisognerà chi l'ammazzi per ubbidienza questo innocente che si nun gli porto il fegato al padrone la mi testa chi me la salva alzò dunque il coltello e menò un colpo nel collo della creatura ma in quel mentre che li tirava decco gli comparisce in tra i piedi al servitore un agnello sicché subito trattiense la mana e pensò di cavare il fegato alla bestia e il bambino lassarlo nel bosco ferito a quel mo e raccomandato alla bontà di dio e così fece vienuto dopo alla presenza del re nell'osteria gli diede a intendere che lui il bambino l'aveva morto e buttò nell'acqua del mare e per prova gli profferse il fegato il re a quella vista godè in sino in fondo al core prese quel fegato che lui credeva fosse della creatura e se lo mangiò tutto con gran rabbia e scramava insulmi trono tu non ce lo barbi il culo ma che vadia pure il re a casa sua allegro e matto per la contentezza di quell'orrendo delitto tanto quel che si scrive in cielo non si scansa e il suo destino a tocca tocca e rinusce ogni sempre a quel mo come il signore dio ha decretato torniamo dunque a quella creatura sciaurata lì a diacere dietro un cesto di stipa nel bosco e con la piaga sanguinente nel collo la piaga in però non era mortale perché poi rinziani chi e gli lasciò soltanto una ciprigna che si sentiva a toccarla con le dita la mattina dopo allevata del sole un signore di quelle parti girandolava a caccia con su cani e quando i cani arrivarono al cesto di stipa a dove il bambino gli era stato messo dal servitore d'ecco ti principiorno a scagnare che pareva il finimondo il padrone correrà subito con credendo che vi fosse la liepre al covo e vede in scambio la creatura che un olava dalla fame o scrama iddio e ma provvisto appunto in uno figlioli e anche la mia moglie sarà contenta di tenersi questo poero di bandonato per suo lo piglia dunque pian piano e nelle su braccia e lo porta con seco a casa e l'allegrezza di questo caso non si può le ridire quelle dubone persone l'allevorno la creatura per suo figliolo sicché diviense grande e vegeto e loro lo feciano struire da dei maestri esperti nel leggere nello scrivere e li posa a nome fiorindo e fiorindo cresceva a vista d'occhio robusto e virtudioso che era proprio una maraviglia aveva fiorindo in sui tredici anni e assieme agli altri ragazzi del vicinato si divertiva a ruzzare un giorno che giocavano a nocino lui perdette per il valsente d'otto quattrini ma questi otto quattrini per le tasche non ce li aveva dice a compagni e vi pagherò domani che non si vogliono ora gli dissan quegli dice lui ma con me quei non ce li ho lassate mire a casa chiedergli al babbo e alla mamma loro son ricchi sapete e domani i ve gli porto gli otto quattrini dal babbo e dalla mamma ha risposto anche i monelli sbeffeggiandolo poe rugrullo non so mica il tuo babbo e la tua mamma quei signori che t'hanno rallevo in casa come che discorsi fate voi scramò fiorindo di con loro eh di certo ti trovorno in un bosco lì dibbandonato di entro un cesto di stipa con una piaga di coltello in nel collo e se tu ti tasti e tu ci trovi t'avia la ciprigna a simili nove fiorindo rimanette sbalordito e corre a casa e volse sapere in che molle stevan le cose e prega e riprega finalmente gli palesorono tutta la verità dice fiorindo allora se non son vostro figliolo vero i me ne vuoi dire io vi ringrazio di tutto il bene che voi mi avete fatto sino a qui ma io sono un bastardo e con voi non ci vuoi stare ma senti per noi te sei nostro figliolo non se n'ha altri ti si darà quel che tu vuoi ma non ci lassare disperati e solingoli a così vadavano a dirgli quei signori piagnendo fiorindo però non si smosse dal suo pensieri e in tutti i modi volse che lo riaccompagnassero in nel bosco a dove l'avevan trovo e non ci fu verse di persuaderlo del contrario sicché bisogna bene che quei due sventurati lo contentassino solo lì in mezzo al bosco fiorindo pensava da che parte potessi andare e principiò a fare i passi a caso e cammina cammina gli erano vicine le ventiquattro e di gialla stracchezza e la fame gli davano alle gambe finalmente arrivò a un cancello d'un giardino e dietro c'era un giardinieri a innaffiare le piante e i fiori e il giardinieri in nel voltar gli occhi vede quel ragazzo fermo e con la cera patita disse chi sei che voto a risponde fiorindo il sono un poero ragazzo in senza mamma in senza babbo e sono stracco morto dal girare e io ho fame che mi piglieresti costi nel giardino a itarvi il mio contento del mangiare al giardinieri gli era garbato di molto il giovanotto soltanto a vederlo sicché gli rispose vieni pure qui da mangiare non ce ne manca figurati il giardino gli è del re di spagna e i sono al suo servizio a così fiorindo ne entrò per garzone dal giardinieri del re in quel mentre dunque che fiorindo abitava con quel giardinieri il re spesso gli andeva a spasseggiare per il giardino e nell'imbattersi con fiorindo si vedeva bene che il giovanotto gli garbava guà e sa danno le persone che sempre garbano incontrano e poi qui gli era un destino sì che un giorno disse il re a fiorindo i ti voglio con me co per camberieri a fiorindo non gli parse vero fu presto d'accordo e l'allogiorno dietro proprio al palazzo reale vestiva sua maestà e steva ogni sempre al suo lato ma ora bisogna sapere che siccome io ho già detto questo re dei figlioli masti non aveva bensì una figliola di tredici anni e che si chiamava chiara stella una bellezza da non si credere manierata gentilina con una faccia di sole sempre piena d'allegria vo capite quel che gli accadette i giovani gli è troppo facile che si innamorino al solo vedersi massime poi se si intendono tra di loro fiorindo preparava tutte le mattine un mazzettino con un po di geranio un po di dittamo delle rose delle viole a mammole e che so io e quando chiara stella sortiva per il giardino in compagnia della camberiera lui glielo deva discorsi fra di loro non ne feciano ma con gli occhi parlavan più meglio che con la bocca insomma finirno col volersi un ben dell'anima e tutti se n'erano accorti all'infora del re già i babbi e i mariti campan sempre insulfidati e però enno c'è chi è buono ma in nelle corti degli invidiosi ce n'è a dovizia e tutti gli altri servitori gli astiavano all'arrabbiata fiorindo perché il re se lo teneva ogni momento d'attorno e si confidava con lui su tutte le cose cominciò non dunque a fargli la spia e a riportare al re che fiorindo sardiva di fare all'amore con la principessa su figliola che arrispondeva quel re mammalucco questo poi non lo posso credere che la mia figliola sia tanto isciaurata da mettersi a discorrere con un camberieri ma la badaron tanto quegli astiosi chiara stella che una sera la fecian trovare assieme confiorindo in nel mentre che loro in senza sospetto parlavano alla ristretta a quella vista il re impermalito che lo tradizzano in sulla su fede subito pensò al castigo e diede ordine che chiara stella fosse dilontanata dal palazzo e mandata dal fratello del re che pur lui era re del portogallo e gli scrisse che si compiacessi di tenerla ben custodita sì sì tienetegli anche un prigione sottoterra agli innamorati che tanto loro il modo di darsi le novità e lo trovano cominciarono dunque a scriversi tra fiorindo e chiara stella ma una di queste lettere capitò in nelle mani di un servitore che la diede al re dice il re gli è una lettera di chiara stella e gli viense a lui tanta rabbia che l'amore per fiorindo e lo trasmutò in barbarità lo fa chiamare e gli dà una lettera sigillata da portarla al re del portogallo e c'era dientro scritto che il currieri dovesse essere impiccato nella settimana oh badate la bella sorte degli innamorati fiorindo arriva alla città del re del portogallo e incontra appunto chiara stella in certi chiostri spasseggiava con la sua guardiana quando si vedano che feste che allegrie fiorindo gli sporse la lettera di suo padre ma chiara stella nebbe sospetto e in senza cancugnare la perse e ci legge quella popò di birbonata figuratevi che pena in però il giudizio non lo perdiede lei scriveva come suo padre sicché strappò quella brutta lettera e ne scrisse un'altra in dove ci diceva la mi brama è di sposare chiara stella a un valoroso cavalieri fatela tra una settimana giocare alla giostra e chi la vince sia sua a male briga che il re del portogallo gli ebbe in nelle mani questa lettera falsa subito bandì la giostra per tutto il regno e ci corsano baroni e cavalieri di cartello in quel mentre chiara stella fece che fiorindo anche lui a dimandasse di giocare la giostra ma al primo combattimento non ce lo volzano perché dissano che non era cavalieri di nascita sicché dunque chiara stella con uno dei suoi gioielli perché lei era figliola di re lo nominò cavalieri e lo mandò alla giostra e ci si diportò tanto bene da virtudioso che vincette tutti e bisogna dargli per risposa chiara stella e gli erano lì per fare le nozze quando comparse un corrieri con una lettera crociata di nero e ci diceva che il re di spagna gli era morto e che su erede alla corona chiamavano chiara stella che bella combinazione tanto quel che è scritto lassù non si scancella non c'è modo di scansarlo e le stelle dissano il vero perché fiorindo diviense il re di spagna fiorindo e chiara stella chi vuol la libertà va di aperella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti